Salve a tutti, siamo i giocatori senza anima e oggi siamo qui con questo nuovo gioco, Tesla Breaks Rewards Un gioco che è un gioco alla sua maniera, iniziamo subito a giocarlo Quindi andremo a fare New Game Normal, Normal, Ok Non so di cosa ci tratti questo gioco E non so proprio di cosa ci tratti Spero che vi piacerà il Gameplay 800 persone hanno avuto la patente quest'anno Sto dicendo Skip, Skip Oh Che bello, sei bloccato Che cosa Hai partito, hai partito Che bello Che bello, ti puoi saltare, va Questo gioco mi ricordo un po' di vecchi giochi, stile Io gli ero in tutti Sì Hai fatto bene proprio, ringraziamo gli sviluppatori Per la sua reggiatra che la sua reggiatra che l'ha portato sul team e alla modica che stai dicendo Ma che sta succedendo in questo istante, prendiamolo in un ricordo, dai Dopo il gioco, cosa ne pensi di questo gioco, che ne pensi, posso rispondere da poco Sì Che ha contattato, anzi voleva fare una collaborazione, però abbiamo scoperto che non c'era online E noi abbiamo scoperto che non era una donna Ma era da un cavallo E quindi mi ho pensato a lasciare perso Madonna mia, le cose si fanno difficili, già dall'inizio, va Ah, i trucchi, basta Stai laggando, bestia E' un gioco come Super Mario, ah Mi scaricato? Il disco è legato, si è scaricato? E' un gioco come Super Mario Allora, salve a tutti e benvenuti Io sono Alfredo Giannieri Mi presento Il nuovo coprotagonista Sì, esattamente Ce la fai tu? Sì Cos'è l'ha fatto anche di Mario Lanca più di Super Mario Oh 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 E' tortuno Oh Che merda Mi vuoi il doppio dato Oggi sono di poche parole, vero? No Vai Che fortuna Avere tra le mani questo titolo Tra le mani proprio Madonna Ma chi l'ha creato sta merda Che ne ha dato Va bene maverino Come scende va E' un insulto E' una scienza Si perchè lui era Ma è uno di quei giochi tipo stupidissimi Se volete un altro gioco Tipo ti ricordi quella Come si chiamava quello bello No Quello era un gioco serio Quello che a noi è piaciuto tanto Quello di voi di Ah quello del Stupido horror No ce n'era uno Dovete ti buttavi Davo un dirufo tipo Quello c'era eravamo tornati da mare quei giorni Eeeh Vai tu tutto Ah tu sei un sopra Ti buttai da Vabbè Eeeh Basta Non so Vai 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 E che 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 Al volo Fala tu Ehm Eh no insieme No no al volo Proprio Siamo dei due youtube Sì Al volo All'insieme Dobbiamo fare Insieme No Comunque adesso avremo La pistola Ah La pistola Sulle Penso che siamo I primi su youtube A trattare di questo gioco Vediamo che se Sì La gravità che ha visto Scuola No Fai un diri Fai un diri Ma Sommai Fai un diri Dai Premi Premi Vaffa Dai Hai tanta Giovanni Tanta di questo Ho già pensato Si ci presentiamo Veramente Come ci chiamiamo Ok dai Tu come ti chiami Addo Mi stacchio Ok Ora voglio vedere Una pianta Vai nella pianta Ma va Ma neanche Sbagliate Che tesa Questa qua Sbagli a me Allora Fammi un po' La differenza Con Batti Di video Oggi Siamo disperati Per il grande video Per questo video Ti chiamerà Merda Perché Vedi il più brutto Del canale Dopo quello Tutti Abbiamo fatto Di quello Di visto Quello Fai Vai 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 Che c'è C'è crudo Vai Tanta Bello Come hai fatto Prima Vai adesso Vai adesso Ma vedi Tu Ah Lui C'è Per aggrapparci Vero Bravo 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 A luce Oh 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 Proprio stiamo facendo delle mila volte La stessa mappa Siamo chiamati unito vero nove Non è un vero nome L'ho premuto L'ho premuto Ah la nuvola Sì vabbè Affettiamo quindi La nuvola Questo game bait Dovebbero Tutti a smarte Cosa pensi dei creatori Che devono crepare Dai impegnati Non sai quanto Come si dice Da no Ecco L'ultimo Deve fare l'ultimo salto Si possono fare Solo due salto Eh tu devi calibrarli Mica che super mario Beh tu devi calibrarli Uno Sacchiete E zacchiete Ma due ce ne sono C'è uno solo ce n'è No no Sacchiete Sacchiete Oh guardate Tu dove? C'è se lui c'aveva un feudo a questo Ma abbiamo sognato Mi ne ha tuffato Chiedi su Basta 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 No 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 Perché se abbiamo andato a fare greco Poca miseria Giovanni Questo gioco non era aspettato Basta Basta Lo dico Si chiama in realtà Giovanni Si Giovanni Mustaccio E noi siamo Gli ingiocatori Di Roma Si Nel borgo Deve c'è lì De Roma Che hai detto Dove E ci sono delle feste Chiamate proprio A onore di questa lì Antica musa La francese Derivante proprio Dallo scarto Dei rifiuti In Africa O evoluti Dal Papa Bonifacio Eleverendo Terzo Si Quella che inventò Il Game Boy Non ha nulla Che a vedere Con una questione orientale Ricordante I paesi Quando si è passato I I I I Immortali I paesi Immortali In cui la presenza Di una C'è Intensità Non smetterà Mai di esistere Che cazzo Sto 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 Non lo voglio Cogliere Il significato Secondario Grazie Che ogni vita È formata Da 3 Cavalli Uno Per Mangiare Allora Secondo Voi Questo Gioco Potrebbe mai battere Perché No Facciamo anche Noi Un Motivo Di Merdo Visti Sai Perché Non lo Criamo Un Videogioco Come Questo Come Questo Come Questo Qua si Noi Giocatori Senza Anima Io Fatecelo Sapere Noi siamo disposti a venderci l'anima Per diventare I giocatori Con l'anima Quindi Totalmente Non abbiamo l'anima Perché Noi ci Vogliamo chiamare In realtà Cavalli Pugenti E Questo Video Di Menta L'abbiamo Detto L'unica Verità Che abbiamo Detto Finale In questo Video Vero I cavalli Pugenti Ricordi I cavalli Sono male A quest'ora Stiamo Perdendo Le ore Le ore Domani Ma che cosa Hai fatto Tag is Brod Andi L'ultimi Tre tentativi Ma tu lo sai che questo qua Io so che questo non lo caricherai MAI Non lo toccherai Ma la sera Il mouse si vede Guarda Che incendi Che successe Si incendi Ma dove andrà Ho premuto il mouse Meno male Guarda vai Giovanni Ma che mi hai vendito il culo Devi scendere A vedere che sto scendo Grazie Dove sono io Giovanni Ormai che abbiamo scoperto Stai ecco ecco tieni 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 Adesso possiamo avere il pistola a pompa Il pistolazzo Ma come io Ah si è giocato Si in due si è giocato Non è che puoi fare attenzionativamente Ti ho sentito Questo lo pubblico stasera Perché è avventuriero Ho il nostro professore Questa Questo gioco Madonna Senti che l'hai scelta Che l'hai scelta Che l'hai scelta Che l'hai scelta Ma che chiediamo a casa tua Che l'hai scelta Mamma Ma 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 Non è una scelta Il secondo episodio arriverà Mai Mai Assolutamente Che continuiamo questa serie E ditecelo su Instagram Noi non abbiamo Instagram Ma 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 Ditecelo lo stesso Anche nei commenti Anche nei commenti Delle foto Che ne sono In belen Di voler Di voler Senz'anima Di voler Continuare E non Iscrivano Poi iscrivano Il commento Subito Ma Non Commentate Di sotto Questo video Noi ne vogliamo Commenti Ma C'erano Gli Caccioni Che Scrivano In Scrivano Vabbè Ma Questo video Che Dovendano Qua c'è la merda Non è come l'altro Sì Facci di tutto Però qua Qua la facciamo Per la parte Sì Qua è bene Oh E io direi Che finisce Un secondo Vediamo l'ambientazione Che dici Perché Nella luna Chi è che polinuggia Alla luna Buona Comunque Buona Buona Come se vuole La palla Morsa Dalle cane Poi Non Non Scrivano Ma è troppo macchinoso È troppo macchinoso È troppo macchinoso È carino Ma è troppo Ma è troppo È fatto bene Ma che cazzo hanno fatto Il personaggio è fatto bene Sì Benissimo Il gioco ha ottimizzato male Col culo Era un gioco di merda Quell'altro Mi aspetto io qua Io ti vedo Di un cegno Sì Che non mi piace L'ora Ci sarà anche la missione secondaria Quanto vedo Ti butti Vediamo È questa la missione secondaria Vedi Basta Poi è troppo lungo Sì 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 Basta Ok Per oggi è tutto Dai campioni E c'autori Senz'anno Autori Senz'anno Dante Alighieri È presente con noi Se vuoi Che deve essere con noi E oggi vi racconteremo L'ultima dell'està Ustita direttamente Dalla cassa produttrice Ice Sun Club Sì Perché un dopo In estate No Ti prego Quindi un dopo In estate Come viene chiamato No Suggestivo No 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 Siamo francesi Questa battuta L'abbiamo compresa All'istante Come francesi Hanno capito Che la zaghetta E la tossiccia Mi giuro Che per l'audio Di questo gioco Non si vede Quello che abbiamo detto E rabbio Basta Mi sono caricati Questi ultimi due minuti Addio ragazzi Io non In youtube Mi vedi il cazzotto Il cazzotto Mi sono Io mi dissocio Addio Stasicato Che è del medio no